Ammontano a 61.694 euro i ruoli ordinari relativi a sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni al codice della strada accertate da Libero Consorzio Comunale di Grigento e non pagate nei termini di legge che si riferiscono all'anno 2016. Questi atti sono divenuti titoli esecutivi per la riscossione coatta mediante iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Si tratta di 164 infrazioni al codice della strada accertate dalla Polizia Provinciale che risultano ad oggi non pagate nonostante siano state debitamente contestate o notificate trasgressori o obbligati entro i termini di legge. Le imposte, tasse, sopratasse e spese di notifica e altri oneri e accessori a qualsiasi titolo dovuti sono stati affidati in riscossione agli agenti di riscossione Sicilia. Nell'ambito dell'attività di contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti sulle strade di competenza dell'ente, inoltre, su disposizione del commissario straordinario del Libero Consorzio Girolamo Alberto di Pisa, il comandante della Polizia Provinciale Enzo Giglio ha predisposto un controllo straordinario nelle strade provinciali dove sono stati elevati sei verbali ad altrettanti sporcaccioni immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. La Polizia Provinciale ha reso noto che è impegnata in una serie di attività finalizzate al controllo remoto delle zone più a rischio individuate come siti sensibili e sparsi su tutto il territorio provinciale. I verbali elevati comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pari a 600 euro per ogni contravvenzione. Inoltre, le telecamere piazzate nei pressi della piazzola di sosta sulla strada provinciale 3, che collega Favara ad Aragona, diventate in poco tempo una vera e propria discarica abusiva, sono riuscite a pizzicare ben 20 trasgressori intenti a buttare rifiuti ai bordi della strada. Tutti sono stati multati con sanzioni singole da 600 euro. La zona era stata bonificata dalla ditta che ha in gestione il servizio.